ti ho portato un regalo speciale che cos'è apri e guarda un libro esatto c'è un po di sport altro che sport ci sono lotte duelli torture vendette giganti mostri inseguimenti evasioni grandi amori miracoli ce n'è di roba cercherò di restare sveglio garzone lucida milosella voglio vederci rispecchiare la mia faccia ai tuoi ordini ti dico questo io tornerò sempre da te c'è un villaggio da queste parti non c'è niente da queste parti per molte miglia e allora nessuno sentirà le tue grida non è caduto inconcepebile dicci sempre sta palavra ma credo che vuol dire quello che pensi tu mai mettersi contro un siciliano quando si tratta di uccidere ecco qua una bella avventura ci sono anche gli rtf i roditori taglieforti io non credo che esistano dove a cercare l'ombra in nero ma non sai dove si trova non seccarmi coi dettagli dopo 20 anni se l'anima di mi padre troverà la pace perché mi trovo qui dove è botton d'oro ora ti spiego no è troppo lunga te faccio un risulto ora perciò non ci resta altro che entrare impedire il matrimonio rapire la princesa e fuggire fine grazie grazie grazie